Ciao, sono Sofia Di Zegos, e oggi condividerò con voi un'analisi sui mercati finanziari elaborata dal nostro ufficio studi. Se apprezzi i nostri contenuti ti invito ad iscriverti al canale e lasciare un like. ASBRO Kifu Technology Inc., conosciuta anche come 360 Digitech Inc., è una società con sede in Cina che opera principalmente nel settore dei servizi di tecnologia creditizia. È una piattaforma leader di credit tech in Cina, quotata sia al Nasdaq, QFInc e all'HQX 3660. La compagnia si impegna a rendere i servizi di credito più accessibili e personalizzati per i consumatori e le PMI, piccole e medie imprese, offrendo servizi di credit tech alle istituzioni finanziarie. Questo implica l'uso delle soluzioni tecnologiche di Kifu per aiutare le istituzioni finanziarie a identificare le esigenze diversificate di consumatori e PMI, ad accedere in modo efficace a potenziali prestatari meritevoli di credito attraverso più canali, a migliorare la valutazione del credito sui potenziali prestatari e a gestire i rischi di credito, migliorando al contempo le strategie e l'efficienza della riscossione. I servizi forniti dall'azienda sono suddivisi in servizi guidati dal credito e servizi di piattaforma. I servizi guidati dal credito abbinano potenziali prestatari con istituzioni finanziarie, consentendo a queste ultime di ottenere prestatari, condurre valutazioni del credito, abbinamenti di fondi e servizi post-prestito. I servizi di piattaforma includono una gamma completa di assistenza ai prestiti e servizi post-prestito sotto il modello Capital Light, Servizi di marketing intelligente Servizi di referenza e software di gestione del rischio come servizi, sa esse per i partner delle istituzioni finanziarie sotto il modello Intelligent Credit Engine, ICE. Kifu Technology ha generato entrate per un totale di 2,20 miliardi di dollari USA con un reddito netto di 566,65 milioni di dollari USA. È stata fondata nel 2018 e impiega circa 2200 persone. La sede dell'azienda si trova a Shanghai, in Cina. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale. Per maggiori informazioni visita il sito www.zeigosonline.com oppure se vuoi ricevere i nostri servizi in prova gratuita per un mese scrivi a info-zeigos.com Zeigos offre solo servizi informativi ed analitici sui mercati finanziari, non esercita in alcuna forma l'attività di consulenza personalizzata in materia di investimenti.